Tutti ricordiamo la sua frase più famosa Originali, non fotocopie E attraverso questa espressione il giovane Beato da una parte mette in guardia dal rischio che i nuovi mezzi di comunicazione possano massificare in modo anonimo creando stereotipi dall'altra il suo è un forte invito ad esprimere ciascuno quanto di più originale ed autentico ha da dare ed i carismi che lo Spirito dona ad ognuno per arricchire la Chiesa anche in questo nostro tempo